Il vaccino sta dando i suoi frutti, buoni risultati emersi dal monitoraggio compiuto sul personale dipendente dell'Aslo di Salerno, sottopostosi a inoculazione all'inizio della campagna nell'ambito della categoria degli operatori sanitari. Si è conclusa ora la prima parte dello studio promosso dall'Aslo di Salerno per verificare l'efficacia di Pfizer e Moderna sui propri operatori. L'indagine ha coinvolto 7.789 operatori, di cui 3.918 femmine e 3.871 maschi che sono stati sottoposti a test di laboratorio per valutare l'entità dell'immunizzazione protettiva indotta dal vaccino a distanza di 40 giorni dalla seconda somministrazione. I valori anticorpali hanno mostrato nell'84,4% livelli molto elevati di anticorpi. La risposta anticorpale è stata riscontrata nel 97,92% dei vaccinati. Solo il 2% circa di essi mostrava valori bassi, anche se comunque reattivi. Nello specifico il 52,8% del campione ha avuto una risposta tra 2.000 e 4.000 unità di anticorpi a millilitro. Il 31,6% ha invece avuto una risposta superiore a 4.000 unità a millimetro, l'8,38% tra 500 e 1.000 unità, il 5% tra 100 e 500, solamente il 2% aveva valori inferiori a 100 unità anticorpali a millilitro. Si tratta di risultati molto confortanti, hanno detto dall'Asl di Salerno, che spronano a completare il protocollo vaccinale e a continuare il monitoraggio sierologico sul personale dipendente nei prossimi mesi, al fine di valutare se nel tempo sia possibile stabilire la durata di tale risposta, contribuendo a definire una soglia minima anticorpale di protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2. L'indagine proseguirà quindi con prelievi e ulteriori rilevazioni a 3, 6 e 9 mesi di distanza dalla somministrazione vaccinale. Lo studio è tra i maggiori svolti ad oggi in Italia.